Salve a tutti utenti di Spazio Games, io sono Dr. White e siamo qui oggi con un nuovo video dedicato alle squadre divertenti a utilizzare su FIFA 15 Ultimate Team. Direi di partire subito il modulo 4-3-3-5, una squadra che mi piace davvero tanto. Iniziamo col portiere Kevin Trapp, il portiere del line track di Francoforte, nella stagione di questo FIFA. Adesso è andato al PSG, questa è la sua versione in forma che ho provato per tante partite, 123, 14.000 crediti l'avevo pagato, adesso ve lo prendete a prezzo di scarto e secondo me è uno dei portieri più solidi del campionato tedesco. Ce ne sono tanti, c'è Adler, c'è Neuer ovviamente, c'è Leno, personalmente preferisco Trapp-Infor, però come vi dico sempre il portiere è una cosa molto 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 personale. Quindi scegliete voi in base a cosa preferite, quindi se preferite Neuer mettete pure Neuer, non c'è nessunissimo problema. Come terzino destro, Carval nella sua versione upgrade, secondo me è uno dei migliori terzini destri del gioco. Sa dare una mano sia in avanti, perché comunque ha una buona velocità, ha un buon passaggio e un discreto dripling, sia in difesa perché comunque ha 82 di fisico e 78 di difesa. L'unico suo problema è che non è altissimo, 1,73, però non va mai in grossa sofferenza, anche perché si aiuta con la velocità che sembra più alta quando andate a giocare in game. Per quanto riguarda i due centrali, io ho fatto una scelta particolare, perché? Perché lì ho nel club, perché Eritrani Carlson me li ha regalati, quindi utilizzo loro. Sto parlando di Jérôme Boateng nella sua versione 88 e di Mehdi Benatiano nella sua versione 85, che dovrebbero essere le loro versioni in form per tutte e due, Boateng è anche una versione Man of the Match 87. Sono abbastanza costosi, sono due difensori fenomenali, se avete la possibilità metteteli perché sono tutte e due molto veloci, hanno un ottimo fisico, hanno un'ottima difesa, sono alti, hanno un worker che secondo me è perfetto per giocare anche in coppia. L'unico, come dicevo, è il prezzo, se non potete permettervi mettete tranquillamente i due giocatori nelle loro versioni base, quindi la versione 84 per Benatia e la versione 86 o anche 85 per Boateng, a seconda che vogliate mettere l'upgrade oppure no. Vanno benissimo così, questi ovviamente li ho nel club, quindi non vado a comprarmi le versioni base, ma anche le versioni non potenziate sono fenomenali e tra i migliori difensori centrali del gioco. Per quanto riguarda il terzino sinistro troviamo un altro del Bayern, sto parlando di David Alaba, è un terzino offensivo ma che dà anche una grossa mano in difesa perché comunque ha, ok, 86 di velocità, 82 di dribbling e 81 di passaggio che sono ottimi i valori per un terzino di spinta, ma 79 di difesa è un buon valore e il fisico è 72 ma se lo incontrate online sapete quanto è difficile superare questo giocatore perché è davvero massiccio, è alto 1,80 m, uno dei migliori terzini sinistri del gioco se non il miglior terzino sinistro all'interno del gioco. Passiamo al centrocampo e metto uno dei miei giocatori preferiti davanti alla difesa, sto parlando di Xabi Alonso, non è velocissimo perché non è velocissimo, 56 di velocità è abbastanza lento, però è sempre al posto giusto, al momento giusto grazie al normale alto di WorkRates e la sua altezza, 1,83 m, permette di vincere anche qualche scontro aereo. Buona gestione del pallone perché ha comunque 87 di passaggio, si fa sentire, dà una mano in difesa e magari con qualche tiro da fuori potreste sbloccare qualche partita bloccata perché magari l'avversario si difende bene, con i tiri da fuori Xabi Alonso ci sa fare e anche sulle punizioni, quindi avete un ottimo tiratore di punizioni. Come centrocampista centrale destro, quindi che va a legarsi con Carval, metto uno dei miei giocatori preferiti, Parejo, nella sua versione Team of the Season del Valencia, è la carta più costosa all'interno della squadra se mettete Benatia e Boateng nelle loro versioni base. Un centrocampista a 1,80 m di altezza, quindi abbastanza alto, è discretamente veloce con 70, ma soprattutto ha 94 di passaggio, quindi addirittura 7 punti in più di Xabi Alonso, 88 di dribbling e 84 di tiro. Quindi voi potreste dire, è un centrocampista abbastanza offensivo. No, perché comunque grazie al 65 di difesa e al 78 di fisico dà una mano in difesa anche grazie al Worker's normale normale. Uno dei giocatori più sottovalutati all'interno del gioco, è assolutamente da provare, mi diverte tantissimo utilizzarlo e lo vedo poco utilizzato anche dagli avversari. Come terzo centrocampista di questa squadra invece abbiamo Junuzovic, dovrebbe pronunciarsi così, se ho sbagliato correggetemi. 1,72 m, quindi è il centrocampista più basso, però è quello che si propone in più in avanti, con l'alto alto di Worker's è abbastanza veloce, ha un discreto, anzi un ottimo dribbling, ha un buon tiro, dà una mano anche indietro, però perché nonostante questi buoni valori offensivi è anche 70 di difesa e 80 di fisico, quindi è un po' il Vidal della squadra, quindi un giocatore che dà una grossa mano in avanti ma dà anche una grossa mano indietro. Si butta molto dentro e questo sarà particolarmente utile quando andremo a vedere il nostro attaccante. Per quanto riguarda il proprio reparto offensivo iniziamo con il nostro AD, Rodrigo, Rodrigo del Valencia, questa è la sua versione in forma uscita nel primo time of the week dell'anno, quindi ormai quasi un anno fa praticamente, è la versione esterno-destro perché la versione base è punta e non mi dispiace affatto, è alto 1,80 m, quindi è abbastanza alto per essere un esterno, alto normale di Worker's, è sinistro, è mancino, quindi potete rientrare e tirare sul secondo palo, l'unico difetto sono forse le tre stelle più di debole perché per il resto ha 86 di velocità, 82 di tiro, 81 di dribbling, valori veramente interessanti per un esterno, costa sui 30.000 crediti, costa molto ma molto meno rispetto al passato dove costava anche 200k tranquillamente. Veniamo all'attaccante sinistro, attaccante sinistro che è un austriaco, un austriaco che è Sabitzer, nella sua versione team of the season, è il giocatore forse più raro della squadra perché sapete trovare magari qualche team of the season argento è sempre un po' complicato, quindi potreste avere un pelino di difficoltà ma fidatevi non è ai livelli di Zardes, di Ibala eccetera eccetera, Perotti e questa gente qui. È molto veloce come giocatore anche più di quanto dimostrato sulla carta, quindi quel 91 di velocità mi sembra anche poco, ne dimostra di più, ha un ottimo dribbling con 80, peccato che ha solo 3 stelle skill, quindi è più un dribbling di agilità che un dribbling tecnico con le skill. Comunque nelle partite che ho fatto si è sempre contraddistinto perché riesce a creare superiorità e anche un discreto tiro per essere un giocatore argento, quindi ve lo consiglio assolutamente. Chiudiamo con l'attaccante che va a unire un po' tutta la squadra e stiamo parlando di Jonathan Soriano Team of the Season, un giocatore fantastico, falso 9 e voi direste ma non ha molto senso falso 9, invece no, è la posizione che è pazzesca per lui perché comunque ha oltre al 95 di tiro che è un valore assurdo, ha 99 di finalizzazione per esempio, quindi ogni tiro in porta è un gol praticamente dall'interno dell'area di rigore, ha 90 di passaggio che è un valore veramente eccezionale per un giocatore di questo calibro, quindi cosa gli permette di fare? Gli permette di ricevere palla metterla giù col fisico che comunque non è fatto male e aprire per gli esterni e poi ricevere a sua volta il pallone in area di rigore e concretizzare. Buono, anzi ottimo il dribbling con 89 un giocatore che con 25.000 crediti circa ve lo porta attaccato a qualcosina in più su PlayStation ma davvero ne vale assolutamente la pena perché è uno dei finalizzatori migliori di tutto FIFA e uno degli attaccanti più sottovalutati dall'intero FIFA 15 Ultimate Team. In conclusione questa è una squadra vedendo un po' tutti i ruoli equilibrata perché ha un attacco fantastico perché sono tutti e tre veloci, tutti e tre tecnici, tutti e tre hanno un discreto tiro quindi tre giocatori che possano concretizzare l'azione. In più avete un centrocampo estremamente tecnico perché possono passare tutti il pallone e possono anche andare a concretizzare perché sono riuscito a segnare con tutti e tre i miei centrocampisti e in più oltre a dare una grossa mano in attacco danno anche una grossa mano in difesa e questo è veramente importante all'interno di FIFA avere una squadra che dà una mano sia in avanti sia indietro. La difesa poi è fenomenale se avete i soldi vi ripeto mettete Boateng o Benatia altrimenti mettete le loro versioni base che sono tranquillamente tra le coppie difensive più forti del gioco, avete Trap che è un ottimo portiere, avete due terzini che spingono molto ma danno anche una grossa mano indietro quindi insomma una squadra perfettamente equilibrata sa fare tutto, vi divertirete anche in prima divisione e se andiamo a escludere Boateng e Benatia nelle loro versioni potenziate non costa neanche tanto, costa all'incirca sui 200-250k a seconda se siete Xbox, Playstation. Quindi una squadra che ne vale la pena provatela, ditemi se avete provato qualcuno di questi giocatori noi ci vedremo presto, ciao a tutti